sono camilla l'assistente digitale del csi piemonte sono in grado di rispondere a domande relative all'azienda csi piemonte e posso assistere l'utente nel trovare rapidamente informazioni che riguardano il csi piemonte il csi piemonte è una delle più importanti aziende informatiche italiane e realizza i servizi digitali della pubblica amministrazione che i cittadini e le imprese utilizzano tutti i giorni si il csi piemonte offre servizi cloud è un cloud service provider certificato da agit e offre infrastrutture e servizi cloud specifici per la pubblica amministrazione aiuta le amministrazioni nella migrazione in cloud dei loro sistemi informativi e offre una piattaforma completamente open source chiamata nevola creata per rendere semplice l'utilizzo dei servizi cloud che è un'immagine 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 che è un'imm